Presentata la stagione 2024-2025 al Teatro Savoia di Campobasso, nove gli spettacoli inseriti in cartellone che andranno in scena dal prossimo 5 novembre al 28 marzo con doppia recita. Una programmazione variegata che parte con un'opera molisana che ha fatto parlare di sé ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Il mio nome è Tempessa, il delitto Matteotti della giornalista Carmen Sepede. Tra gli attori Diego Florio, Marco Caldoro e Giorgio Careccia opera in programma il 5 e il 6 novembre. La stagione teatrale continua con una moderna favola metropolitana come Alice nelle fogne delle meraviglie, passando attraverso Shakespeare ed Ospetek. Una grande metafora che ci circonda come acqua e poi un capolavoro come Moby Dick. Un programma estremamente ricco che ci accompagnerà fino alla primavera e che siamo certi ha commentato. La presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Pressutti, sarà apprezzato come sempre accade dal nostro pubblico. Al fianco della Pressutti, durante la presentazione al Teatro Savoia, il consigliere regionale delegato alla cultura, Fabio Cofelice. Speriamo e siamo certi di poter valorizzare al massimo, anche attraverso eventi come la stagione teatrale, il ruolo della cultura e perché no implementare il turismo. La vendita degli abbonamenti inizierà lunedì 21 ottobre. I biglietti d'ingresso per i singoli spettacoli infine saranno messi in vendita dal 5 novembre alle ore 10 a conclusione della campagna abbonamenti.